Se stai guardando questo video è perché hai appena ricevuto un pacco di New Martina e non sai come applicare la tua pellicola Quindi, guarda questo video che ti insegna a mettere perfettamente una pellicola proprio come faccio io In questo caso, pellicola in policarbonato Che cos'è la pellicola in policarbonato? È una pellicola ultra sottile, ultra resistente ed auto rigenerante Molte persone si impressionano perché vedono che la pellicola è molto sottile e quindi pensano non sia resistente Ma in realtà non è lo spessore che fa la qualità della pellicola, bensì il materiale che andiamo ad utilizzare Guarda questo video che ti spiego step by step come si applica una pellicola in policarbonato Abbiamo ricevuto il pacco a casa, quindi abbiamo la nostra pellicola Installation Toolkit e gel Questi li diamo noi in dotazione, quindi guardate Cosa esce all'interno del mio Installation Toolkit? Troviamo la salviettina con la la umida con disinfettante e spray che abbiamo noi per pulire i vetri Spray ma è il prodotto, io dico spray sempre Pannetto Asciutto Questo è anche lavabile, lo potete utilizzare anche per pulire i vostri occhiali Sticker fondamentali, soprattutto per le pellicole ceramic E standi pellicola Armobu Questo lo potete conservare perché è riutilizzabile, è materiale resistente Ma ne usa il getto Let's go! Allora, primo step importante, se ce la avete ovviamente Rimuovere la vecchia pellicola Una volta fatto questo, dobbiamo andare a pulire lo schermo del nostro telefono Ragazzi, prima cosa fondamentale per mettere al meglio la pellicola è la pulizia Perché? Quando andiamo a rimuovere la pellicola precedente, si formano delle incrostazioni intorno allo schermo Queste incrostazioni trascinano lo squacco all'interno se noi non riusciamo a pulire bene il nostro telefono Quindi puliamo bene il telefono, rendiamolo liscio in modo che sia più facile poi l'applicazione della pellicola Vado a prendere la mia salvietta con la bagnata Questa vi ho detto disinfetta e pulisce E vado a inumidire il mio telefono e a pulirlo per bene Iniziate con la pulizia dei bordi e cercate di togliere tutte le incrostazioni Una volta fatto questo, passate all'altoparlante Nell'altoparlante si accumula lo sporco E se non lo puliamo, poi si butta tutto, si trascina tutto al centro del cellulare Quindi non ci fa mettere bene la nostra pellicola Perfetto Secondo step, vado ad asciugare il mio telefono Prendo il panno, quello lì asciutto E vado ad asciugare il mio telefono Ragazzi, la pulizia non deve essere questa Perché io così lo sporco lo prendo e me lo rimango sempre al centro Lo trascino solo per il telefono ma non lo vado a togliere Quindi piego il mio pannetto e lo vado a passare Faccio questo movimento Parto da giù, il lato Poi vado al centro, poi vado sopra e me lo tiro giù di nuovo Giro di nuovo il pannetto e procedo Faccio sempre la stessa cosa Io che sono abituata a un panno più grande, ne parliamo? Perfetto Una volta fatto questo, io non lo faccio mai Però è un consiglio che do a voi da casa Prendete lo sticker, quello da grande Perché ne avete uno grande e due piccolini E passatelo sul telefono In questo modo Una volta fatto questo, procedo con l'applicazione Allora, come vi ho detto precedentemente Vi diamo questa bottiglina con il gel in dotazione Questo serve solo per applicare o le animali o le pellicole in policarbonato Prima cosa da fare, apriamo la bottiglina e controlliamo che spruzzi Il solito spruzzi Ecco qua, una o due botte spruzzi Ok Poi, prendiamo la nostra pellicola La pellicola in policarbonato è fatta di tre strati Abbiamo la prima dove c'è la scritta Armov Vi faccio vedere Che va rimossa Deve fare questo amore Molto molto sottile, vedete? Poi abbiamo la seconda Che sarebbe proprio la nostra pellicola Eccola qua Vedete? Che si sente E poi abbiamo la terza Che sono queste due Che non ci servono a niente Però per farvela vedere Così capita bene cosa dovete togliere e cosa non dovete togliere Quindi, abbiamo la nostra pellicola qui già tagliata Andiamo a rimuovere il primo strato Fate attenzione Rimuovete solo il primo strato Ok? E sbarazzatevi di tutti i taglietti per gli altoparlanti Fotocamera, eccetera Una volta fatto questo Vado a rimuovere proprio la mia pellicola Nel frattempo Ci faccio prendere il nuovo telefono Aspetta Ok Cosa molto importante Quando andiamo a mettere la policarbonato E' come Vaporezziamo lo spruzzo sul telefono Prendo lo spruzzo E da lontano, ragazzi Da lontano, non così Vado a Fare questo Ok Perché se lo fate troppo vicino Si fanno le macchie, le chiazze E dopo la stesura non viene bene Non viene omogenea Quindi spruzzate in modo giusto Non che si facciano le macchie Andiamo a prendere la nostra pellicola E la appoggiamo sulla mano In questo modo Quindi la parte adesiva verso l'alto E la parte liscia verso il basso Quindi sulla nostra mano Spruzziamo anche sulla pellicola Sempre in modo omogeneo, ragazzi Prendiamo con due dita La pellicola E la andiamo a appoggiare sul telefono In questo modo Se la sentite un po' secca sotto Andate a spruzzare un altro po' di gel Ecco fatto E uno E due Ecco fatto Una volta fatto questo Prendo i miei stendi pellicola La cosa bella della policarbonata È che la potete muovere Vedete? Perché ha il gel sotto Quindi molto facile da applicare Prendo le mie quattro dita E le poggio qua All'estremità del mio telefono Con la stendi pellicola Vado a tracciare Una linea al centro Perché traccio la linea al centro? Traccio la linea al centro Perché faccio fuori uscire Un po' di gel In modo che la pellicola Non si muova più E si blocchi sul telefono Quindi realizzate per bene La vostra linea al centro Una volta fatto questo Mi realizzo Quattro linee ai lati In modo che mi divido Il gel in sezioni Uno Due Tre E quattro Dopo aver diviso Il gel in sezioni Vado a Uno Due Tre O tre Fasi da stendere Quindi uno Due Tre E uno Due Tre Metto sempre Le mie quattro dita E faccio Uno Due E tre Giro il cellulare E faccio Uno Due E tre Stop Mi rigiro il cellulare In base a come mi trovo E cosa faccio? Parto dal centro del telefono E faccio metà verso l'alto Sempre con delicatezza Ragazzi ci vuole un po' di Pressione ma leggera E poi faccio metà anche qui Faccio la stessa cosa per due Tre volte Fino a quando non vedo più che non ci sono bollicine Bollicine di gel Quindi continuo fin quando non vedo che è tutto Perfetto Una volta fatto questo Prendo di nuovo il mio pannetto E vado ad asciugare Applicazione terminata Se sullo schermo notate delle macchiette È tutto normale È il gel che asciuga E va avvia nelle 24 ore In più il gel Una volta che vado ad asciugarsi Dà ancora più resistenza E indurisce la nostra pellicola Questo è il risultato finale Mettere una pellicola in policarbonato È davvero facile E grazie a questo tutorial Un po' di più Un bacio amici Un po' di più